Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nel corso di un'audizione in prima commissione consigliare, l'assessore regionale Paparelli ha illustrato il programma su innovazione tecnologica e infrastrutture informatiche. Annunciando la connessione veloce per le aree industriali della regione. Nel giro di due anni porteremo la connessione a 30 mega nelle 1200 aree industriali dell'Umbria. E' questo il dato più rilevante emerso dall'audizione dell'assessore Fabio Paparelli che si è tenuta nella prima commissione presieduta da Andrea Smacchi dove ha illustrato il suo programma su innovazione tecnologica e infrastrutture informatiche. Per Paparelli un obiettivo fondamentale è l'innovazione legata al tema dell'industria e dello sviluppo della regione. Per questo abbiamo iniziato il censimento delle 1200 aree industriali e artigianali dell'Umbria per vedere come sono servite dalla fibra ottica, che tipo di connessione hanno, come gli arriva il segnale. In due anni vogliamo arrivare ad un piano regionale che metta a sistema tutti i finanziamenti disponibili per riuscire a portare almeno la connessione a 30 mega in tutte le aree industriali regionali. Paparelli ha anche sottolineato l'importanza del data center unico della pubblica amministrazione e grazie al piano di migrazione ha detto sono previsti finanziamenti per aiutare tutte le pubbliche amministrazioni regionali a spostare i propri server sul data center unitario. Altro punto, il completamento delle infrastrutture di collegamento del sistema della pubblica amministrazione partendo dalle scuole e dagli ospedali. Questo consentirà anche di mettere a disposizione sempre più open data nell'ambito della nostra agenda digitale come abbiamo fatto nei giorni scorsi pubblicando i dati aperti sul turismo. Infine, Paparelli ha annunciato l'intenzione di mettere mano al sistema di telefonia della PA regionale. L'obiettivo, ha detto, è quello di far passare al sistema VoIP tutta la pubblica amministrazione della regione con una gara unica che permetterebbe un risparmio stimato intorno al 20% pari a circa 2 milioni e mezzo di euro. La Commissione Sanità e Servizi Sociali di Palazzo Cesaroni ha discusso con il direttore regionale della Sanità Emilio Duca dell'ipotesi di convenzione con altre regioni per quanto riguarda i trapianti e della situazione relativa ai centri di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Il presidente della Commissione, Attilio Solinas, ha posto all'attenzione le problematiche connesse con le convenzioni fra regioni. Per i trapianti di fegato c'è quella con il Lazio, è evidenziato, ma è un fatto che molti donatori vanno invece ad Ancona, quindi è ipotizzabile convenzionarsi anche con l'ospedale del capoluogo marchigiano e lasciare poi la scelta al paziente. Chi sceglie di andare fuori regione sia registrato al centro trapianti regionale Umbro. Il direttore Duca ha illustrato la situazione. Attualmente, ha detto, abbiamo protocolli d'intesa con Lazio, Toscana e Emilia Romagna, mentre con la regione Marche non è stato formalizzato, anche se puntiamo a un accordo quadro per il periodo 2016-2018. L'Umbria è attrattiva per quanto riguarda i reni. Dal 2010 l'attività di trapiantologia fa registrare 72 trapianti per cittadini Umbri su un totale di 89 persone, considerando anche i non Umbri. Solo 27 Umbri hanno scelto di curarsi fuori regione. Discorso diverso per le altre patologie. Cinque cittadini Umbri hanno scelto per il trapianto di fegato l'ospedale Umberto I di Roma, sui 38 che hanno optato per le strutture di fuori regione. Numeri molto più bassi per le altre tipologie. Nove pazienti sono andati fuori regione per trapianti di cuore, solo quattro per il polmone. L'altro tema affrontato in materia di sanità è quello dei centri di assistenza per i disturbi nel comportamento alimentare. Si tratta di una patologia in crescita, ricordato Solinas, che coinvolge soprattutto giovani donne, le cui conseguenze possono essere drammatiche. Su questa patologia il territorio di Perugia è in sofferenza con la Onlus Pellicano, che si occupa dei casi ma è rimasta solo col personale volontario, essendo venuta meno la convenzione per la presenza di un medico in questo centro. In Umbria, a risposto Duca, c'è la struttura di Palazzo Franciscia Todi, che offre servizio di residenzialità 24 ore su 24 con nove posti letto. Nell'ospedale di Città della Pieve ci sono 12 posti letto per grandi obesi. Sono previsti altri due posti letto per casi acuti a Città di Castello, in pediatria e nel reparto endocrinologia del nosocomio di Perugia. In tutti questi casi le associazioni interagiscono con la sanità pubblica. Dopo l'informativa ricevuta dal direttore sanitario, la Commissione ha deciso all'unanimità di chiedere un sostegno maggiore ai centri di assistenza per i disturbi alimentari e di ampliare le convenzioni con le altre regioni per quanto riguarda i trapianti. In prima Commissione consigliare, il Movimento 5 Stelle ha presentato due mozioni, una sulla stabilizzazione dei precari e una sulla trasparenza del sito internet della Regione. Stabilizzazione dei precari e trasparenza del sito internet regionale. Sono questi i temi delle due mozioni che i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, hanno presentato in prima Commissione. Rispondendo all'interrogazione sull'assenza di trasparenza del sito web regionale, l'assessore alle riforme Antonio Bartolini ha annunciato che entro i primi mesi del 2016 sarà pronto il disegno di legge sulla trasparenza totale. Bartolini ha precisato che l'obiettivo è quello di andare oltre l'amministrazione trasparente ed arrivare all'amministrazione aperta con nuove forme di partecipazione e di dibattito pubblico. All'interrogazione sui gravi ritardi all'erogazione degli incentivi per la stabilizzazione dei precari del 2011 ha risposto l'assessore al lavoro Fabio Paparelli che ha preso l'impegno di chiudere tutte le pratiche entro la fine dell'anno. Paparelli ha annunciato che entro il 2015 erogheremo tutti i finanziamenti alle aziende e ha spiegato che sono state fatte 468 domande con 1050 lavoratori coinvolti, segno dell'interesse suscitato dall'avviso pubblico. In entrambi i casi Maria Grazia Carbonari si è dichiarata parzialmente soddisfatta delle risposte avute chiedendo che i tempi promessi dagli assessori vengano rispettati. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi ha trattato temi concernenti l'attuazione della legge regionale sui servizi e interventi a favore della famiglia e il monitoraggio di atti riguardanti il patrimonio regionale. Per entrambi gli argomenti i commissari hanno deciso ulteriori approfondimenti auspicando a breve altra documentazione da parte della Giunta. Il Comitato valuterà nella prossima riunione l'eventualità di convocare audizioni con i soggetti interessati a partire dall'esecutivo regionale. È stato l'assessore Paparelli a rispondere in terza commissione all'interrogazione del consigliere regionale Marco Squarta del gruppo Fratelli d'Italia sui ritardi nei pagamenti delle indennità ai tirocinanti coinvolti nel progetto Garanzia Giovani. Il consigliere regionale Marco Squarta, gruppo Fratelli d'Italia, ha interrogato in terza commissione l'assessore Fabio Paparelli sulla mancata erogazione dell'indennità dei tirocini finanziati con il fondo Garanzia Giovani. Il progetto, ha spiegato l'assessore, viene gestito in via telematica nella piattaforma apposita dove sono indicati i soggetti, promotori, ospitanti e tirocinanti, l'ammissibilità delle richieste e dei finanziamenti, la predisposizione e la gestione di ogni singolo progetto. Il promotore deve verificare mensilmente le presenze del tirocinante e trasmettere i dati alle province che dopo un primo controllo comunicano i dati alla regione per la loro trasmissione all'Inps che gestisce le erogazioni grazie a una convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro cui hanno aderito la maggior parte delle regioni. L'Inps si è impegnato a liquidare nel mese le indennità ai cui dati siano stati trasmessi entro il giorno 10. I lamentati ritardi nei pagamenti, ha spiegato Paparelli, sono dovuti al fatto che il sistema di transito dei dati fra Regione, Inps e Ministero del Lavoro è stato avviato solo dal mese di maggio scorso, cioè dopo l'inizio a febbraio dei primi tirocini. Ciò spiega perché i primi pagamenti siano stati possibili solo a giugno. In ogni caso, alla data del 1 settembre, sono stati effettuati 955 mandati di pagamento a fronte di 1.474 richieste inviate alla Regione, di cui 340 pervenute il 27 agosto scorso. Le risorse destinate sono al momento esaurite. Rispetto alla dotazione iniziale di 3.300.000 euro risultano approvati tirocini per un importo pari a 3.298.000 euro, con corrispondente spesa di 373.600 euro per la remunerazione dei soggetti promotori. Ciascun tirocinante percepisce un'indennità di 500 euro. Con delibera regionale si è previsto un ulteriore incremento delle risorse finanziarie per i tirocini e una velocizzazione delle procedure. Il consigliere Squarta si è dichiarato non soddisfatto della risposta. Nonostante siano stati fatti passi avanti, ha detto continueremo a monitorare la situazione, perché ancora oggi riceviamo segnalazioni di giovani che lamentano tali ritardi. Tutto ciò, dice Squarta, non fa altro che incrementare quella sensazione di frustrazione che sempre più attanaglia i giovani disoccupati, una condizione che li spinge addirittura, secondo dati recentissimi, a rinunciare a cercare lavoro in virtù della sensazione di inutilità degli sforzi profusi. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea legislativa e sul canale YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.